Benvenuti. Il tema che tratteremo quest'oggi è sulle origini della Bibbia. Cercheremo di rispondere alla domanda da chi e da dove proviene la Bibbia. Vedremo come si è formata e come sono nati i vari libri che la compongono. Cominceremo dal basso, nella maniera più semplice possibile. Innanzitutto, come è strutturato il libro? La Bibbia è composta essenzialmente da due parti. In effetti, per molti di voi questo può sembrare un dettaglio scontato, ma dovete sapere che per molte persone non lo è affatto. Molti non sanno che esiste un Antico ed un Nuovo Testamento. Perciò bisogna spiegare che l'Antico Testamento è la prima parte della Bibbia, che è composta da 39 libri e che fu cominciata ad essere redatta al tempo di Mosè. Per la precisione, secondo la rigorosa cronologia biblica, partendo con il libro della Genesi nel 1606 a.C. e concludendosi con il suo ultimo libro profetico dell'Antico Testamento, che fu Malachia, intorno al 420 a.C. L'intero Antico Testamento, che è stato scritto prima della venuta di Cristo, è attraversato da un filo rosso che tiene uniti tutti i 39 libri. Questo filo rosso si chiama Promessa, la promessa della venuta del Messia. Una promessa da parte di Dio che ci dice che il Cristo Redentore verrà sulla terra. Una promessa che, via via che leggiamo l'Antico Testamento, prende una forma sempre più chiara e dettagliata. Duemila anni fa nacque Gesù Cristo. La sua venuta ha adempiuto la promessa e le profezie inerenti al Messia sofferente. Sulla sua venuta erano state scritte nell'Antico Testamento più di 300 profezie, ed è morto sulla croce come le antiche scritture avevano predetto. Cito ad esempio Isaia 53 o il Salmo 22, eccetera. Dopo tre giorni il Messia è risorto e i suoi seguaci ebbero il compito di scrivere il Nuovo Testamento, una raccolta di 27 libri che sono stati redatti negli anni tra il 32 e l'anno 100 d.C. Questo non significa che il primo libro è stato scritto nell'anno 32 e l'ultimo nell'anno 100, ma che quella raccolta nel suo complesso è stata scritta durante quell'arco di tempo. Il filo rosso che attraversa e che tiene unito i libri del Nuovo Testamento si chiama adempimento, cioè il Messia è arrivato. Il Nuovo Testamento ricorda la promessa fatta dall'Antico Testamento e ne testimonia l'avvenimento sigillandola. L'Antico ed il Nuovo Testamento descrivono l'intera storia. Dalla creazione, la Genesi comincia con le parole nel principio Dio creò i cieli e la terra, fino alla distruzione di questo cosmo e la riformazione di nuovi cieli e nuova terra. Questo troviamo scritto in Apocalisse al capitolo 21, versetto 1. Su questa slide potete vedere sotto l'intero arco temporale della storia, dalla creazione fino alla realizzazione di nuovi cieli e nuova terra. In questo arco temporale avviene anche la storia dell'umanità, che viene descritta dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, e potete vedere come il Messia è al centro di tutto, e precisamente tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Originariamente la Bibbia era scritta in tre lingue. L'Antico Testamento era quasi tutto esclusivamente in ebraico. Su questa immagine potete vedere parte di un manoscritto ebraico. In particolare, questo è il manoscritto più prezioso esistente, il Codex Aleppo, il testo antico migliore di cui l'umanità sia in possesso. Il manoscritto è risalente al Medioevo, ma corrisponde fedelmente al testo originale che veniva conservato nel Tempio di Gerusalemme fino all'anno 70 d.C., quando poi è stato distrutto. In particolare, possiamo notare che il manoscritto non contiene solamente le consonanti. In ebraico all'epoca si scrivevano solamente le consonanti, ma qui in questo caso vediamo anche dei segni per le vocali, e sono quei puntini e quelle linette che si vedono. E inoltre, su questo manoscritto, troviamo addirittura anche le note musicali che indicavano come il testo doveva essere intonato all'interno della sinagoga. Infine, abbiamo anche delle note sul bordo a piedi pagina, che indicavano quante volte un determinato termine compariva nel testo complessivo. Ad esempio, questa parola appare tante e tante volte, oppure, attenzione, questa parola compare un'unica volta, scriverla esattamente com'è, senza alterare l'ortografia. Per tutti questi accorgimenti, il Codex Aleppo è la migliore trascrizione che possiamo avere. È denominato Codex Aleppo perché, per molto tempo, questo manoscritto è stato l'orgoglio degli ebrei della sinagoga di Aleppo, nel nord della Siria. Recentemente Aleppo è diventata famosa in tutto il mondo per le tristi vicende di guerra in Siria, ma ad essere giusti questa città meritava di essere già famosa prima, proprio per il suo Codex. Tuttavia, una triste vicenda legata a questo manoscritto avvenne nel 1948. A causa di azioni antisemitiche dopo la fondazione dello Stato di Israele, il manoscritto venne trafugato, sparì senza lasciare tracce. Anni dopo fu ritrovato con un'ammenda, una piccola parte era mancante, ma la maggior parte era salva. Questo era quindi il Codex descritto, come abbiamo detto, redatto in ebraico. Ma, come ho detto prima, non tutto l'Antico Testamento era totalmente in ebraico. Vi erano alcuni libri, in alcuni capitoli, che erano stati scritti in aramaico. Ad esempio, in Daniele dal capitolo 2, versetto 4, fino al capitolo 7, oppure alcune parti del libro di Esdra. E infine un unico versetto nel capitolo 10 di Geremia. L'aramaico è una lingua, possiamo dire, imparentata con l'ebraico, ma non è un dialetto, è una lingua strettamente affine. Il Nuovo Testamento, invece, fu redatto originariamente per intero in lingua greca. In questa immagine potete vedere parte di un manoscritto trascritto in greco. Come ho detto all'inizio, i primi libri dell'Antico Testamento furono scritti nel 1606 a.C. e sono stati scritti da Mosè dopo l'Esodo dell'Egitto. E' l'ultimo da Malachia nel 420 a.C. L'Antico Testamento è in pratica una vera e propria biblioteca composta da 39 libri che si è venuta a formare nell'arco di circa 1200 anni. E' redatta da circa 30 autori diversi. Fra questi vi sono dei re, dei giudici, pastori, artisti, in pratica diverse classi sociali appartenuti anche a diversi territori. Quando parlo di 39 libri nell'Antico Testamento, intendo dire che questo è il numero di libri che troviamo in una comune Bibbia tedesca. E' bene specificare perché dovete sapere che, per esempio, originariamente il primo e il secondo libro di Samuele erano un testo unico. Fu diviso in seguito per comodità, ma per quanto riguarda il suo contenuto è inalterato. Così anche i libri di prima e seconda re. Anche questi originariamente erano un testo unico. Prima e seconda cronaca erano anche anch'esso un unico libro. E' importante saperlo perché il numero 39 non ha un qualche significato speciale, simbolico o altro, ma è il risultato di suddivisioni apportate in seguito. Nella Bibbia ebraica l'ordine dei libri è composto diversamente rispetto alla nostra. Questo perché nelle nostre versioni si è adottato l'ordine delle più antiche traduzioni in lingua greca, quella della Septuaginta, detta anche dei settanta. Questa versione fu realizzata da una comunità di ebrei residenti in Alessandria d'Egitto nell'anno 100 d.C. Questi ebrei hanno cambiato l'ordine dei libri e noi occidentali abbiamo poi adottato quella sequenza. Ma per quanto concerne i contenuti, non vi è stata alcuna alterazione. Vediamo ora come sono ordinati i libri nella tradizione ebraica. Come nelle nostre, inizialmente abbiamo i cinque libri di Mosè, ossia il Pentateuco, formato da libri della Genesi, l'Esodo, il Levitico, Numeri e il Deuteronomio. I cinque libri, nel loro insieme, compongono la Torah, che in ebraico significa legge, ma anche indicazione. La parola Torah deriva da Chorah, che significa indicare col dito, dare indicazioni, insegnare. Perciò si potrebbe interpretare come Dio che insegna, che indica i Suoi comandamenti. E la Torah indica anche al Salvatore, che risolve il problema del nostro peccato. Da soli non siamo capaci di risolvere questo problema e abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi. Dunque la Torah ci indica anche il Messia. Dopo la Torah, nella Bibbia ebraica, troviamo una seconda sezione di libri, i profeti, che in ebraico vengono chiamati Neviim. Questa sezione è a sua volta suddivisa in due gruppi, i profeti anteriori e i profeti posteriori. Ai profeti anteriori appartengono i libri di Giosuè, Giudici, Samuele e i Re. Perché questi libri storici vengono denominati profeti, perché sono stati scritti da profeti. Giosuè era un profeta che scrisse sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Il Libro dei Giudici fu cominciato ad essere scritto dal profeta Samuele e completato poi dai profeti Gad e Nathan. Il Libro dei Re fu scritto dal profeta Geremia. Questi, quindi, sono i profeti cosiddetti anteriori. I profeti posteriori sono gli autori dei libri che noi conosciamo prevalentemente per le loro profezie. I grandi profeti come Isaia, Geremia, Ezechiele e in seguito i dodici profeti minori. Ora però nasce un piccolo problema. Nell'attuale versione della Bibbia ebraica il Libro profetico di Daniele non viene inserito tra i profeti, ma è stato spostato nella terza sezione, la sezione dei poeti, cioè degli scritti. Ma ci sono indicazioni che originariamente il Libro di Daniele era nella sezione dei profeti. In particolare, tra i rotoli ritrovati a Qumran, vi è un manoscritto denominato Florilegium e in quel manoscritto Daniele viene citato come Daniele il profeta. Anche Gesù in Matteo 24 lo cita in egual modo nominandolo Daniele il profeta nel versetto 15. Perciò il suo libro era inizialmente nella sezione profeti e successivamente è stato spostato. Perché? Perché Daniele profetizzò descrivendo l'anno esatto in cui doveva arrivare il Messia. Difatti, calcolando, partendo dall'anno in cui era stata pronunciata la profezia di Daniele sulle 70 settimane di anni, si arriva esattamente all'anno 32 e si arriva quindi perfettamente all'anno in cui Gesù fece il suo ingresso trionfale a Gerusalemme il giorno della Domenica delle Palme. Poi Daniele descrive che sarebbe stato ucciso e che in seguito sarebbe arrivato un popolo che avrebbe distrutto il Tempio. Le cose andarono esattamente così. Cinque giorni dopo la Domenica delle Palme Gesù fu ucciso con la crocifissione e nell'anno 70 d.C. arrivarono i romani e distrussero il Tempio insieme all'intera città di Gerusalemme. A proposito di questa profezia di Daniele, c'è una lettera scritta nel tardo medioevo da parte di uno dei più grandi rabbini della storia, Moshe ben Maimon, e la lettera in questione è intitolata Igeret Teman, lettera ieminita indirizzata ad una comunità dello Yemen in cui scrive Daniele ci ha rivelato la scienza dei numeri. Tuttavia, siccome questa rivelazione a noi è stata occultata, i nostri saggi predecessori ci hanno consigliato di non fare calcoli con le cifre di quel libro, perché potrebbe essere da inciampo per gli ebrei in quanto si prenderebbe atto che il tempo della venuta del Messia profetizzato è ormai passato. E così molti ebrei sono stati distolti dal guardare le cifre predette da Daniele e per deviare ulteriormente l'attenzione da quel testo, decisero infine anche di spostare il libro nella sezione profeti, quasi in fondo alla terza sezione degli scritti, come se lo si volesse un po' nascondere. Ma se diamo un'occhiata come originariamente il numero dei libri erano disposti nella sezione ebraica, possiamo notare che nella prima sezione, quella della Torah, abbiamo 5 libri. Poi, se nei profeti inseriamo Daniele, otteniamo quella sezione composta da 20 libri. E infine, la sezione degli scritti senza Daniele, composta da 10 libri. Perciò lo spostamento successivo dai profeti agli scritti da parte del libro di Daniele ha creato una distorsione, perché attualmente vi sono 19 libri nella sezione profeti e 11 libri nella sezione scritti. Se si riporta Daniele tra i profeti, notiamo che le varie sezioni sono moltipli di 5. 5, che è il numero dei libri della Torah, che come vedremo dopo, è la base dell'Antico Testamento. Così quindi avremo dunque un certo tipo di ordine logico, fatto da 5 più 20 più 10. E inoltre, c'è da aggiungere che avremo 4 grandi profeti in quella sezione, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, seguito dai 12 profeti minori. E 12 è un multiplo di 4. Ma andiamo oltre e passiamo ora alla terza sezione, la sezione degli scritti, in ebraico Ketuvim. All'inizio di questa sezione abbiamo i salmi. Per questo quella sezione come scritti viene definita anche come sezione dei salmi. I salmi sono seguiti poi dal libro dei proverbi, poi da Giobbe, poi dal Cantico dei Cantici, Ruth, Lamentazioni, Ecclesiaste, Esther, poi come già detto Daniele, anche se non dovrebbe. Quindi Ezra e Neemia. Questi due libri, che attualmente troviamo separati, erano originariamente un unico libro. E infine il libro delle cronache. Così, senza Daniele avremmo appunto 10 libri nella sezione scritti. La Bibbia ebraica, quindi, è composta da queste tre sezioni che abbiamo illustrato. La Torah, i Nevi'im e i Ketuvim, anche detto Ketuvim. Se si mette la U davanti, si rende morbido il suono della K e diventa K. Perché lo dico? Perché la Bibbia ebraica viene chiamata Tanakh. E Tanakh è l'insieme delle prime consonanti di ogni sezione. inserendo poi la vocale A tra una lettera e l'altra, si ottiene il suono della parola Tanakh. Ora, Gesù Cristo, durante la sua vita, riconobbe il canone ebraico. In Luca al capitolo 24, leggiamo come spiega i discepoli sulla via Peremaus, che fu una lunga camminata, possiamo dire quasi una tappa da trekking. Comunque, dicevo che Gesù, lungo il tragitto, fece ai due discepoli un riassunto del canone ebraico, in riferimento ai passi che lo concernevano. Leggiamo dal versetto 25. O insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo, che in greco sta per il Messia, soffrire tutto ciò ed entrare nella gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiega a loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Più tardi poi, apparve anche agli undici apostoli. E leggiamo nel versetto 44. Poi disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. In pratica, le tre sezioni del canone ebraico. Quando cita i salmi, non sta solo per quel libro, ma come abbiamo detto prima, significa anche l'intera sezione degli scritti. Poi leggiamo ancora. Allora aprì loro la mente per capire le scritture. La loro mente era fino ad allora chiusa. E in quel momento Cristo gliela aprì e finalmente... Ah, è tutto chiaro ora. Avevano compreso l'Antico Testamento. Questo vale anche per noi. Se non capiamo l'Antico Testamento, allora significa che la nostra mente è al momento chiusa e ha bisogno di essere aperta. E il Signore può fare questo. Lui apre la mente, ovvero l'intendimento. Nus in greco significa mente e intendimento. Quindi la mente deve essere aperta. E vediamo che ai discepoli sulla via per Emmaus accadde proprio questo, quando ripensarono all'incontro con Gesù in quella lezione durata più di due ore. Minimo due ore. Sì, perché ci vogliono circa due ore e mezza per arrivare da Gerusalemme ad Emmaus a Passo Duomo. Se poi si fa qualche sosta, anche di più. Comunque, leggiamo il versetto 32 e qui dice... Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre Egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture. Aprendo loro le scritture, le ha fatte intendere e così ha aperto loro i cuori. Quindi dobbiamo aprire il libro e leggerlo. Questa è una cosa. Ma è il Signore poi che ci apre la mente e così riusciamo a capire veramente le scritture. Dunque, come abbiamo detto, tutto ebbe inizio nell'anno 1606 a.C., dopo l'esodo dei figli di Israele dall'Egitto. Gli ebrei erano tenuti come schiavi nelle città di Pitom e Ramses, nel delta del Nilo. E Dio li ha fatto uscire sotto la guida di Mosè dall'Egitto attraverso il Mar Rosso nel deserto del Sinai e lì sul monte Oreb ricevettero le tavole con i dieci comandamenti. Fu lì che tutto ebbe inizio, con due tavole di pietra che Dio stesso scrisse di suo pugno con caratteri in lettere. Più tardi ci torneremo su questo perché questa fu qualcosa di rivoluzionario. Caratteri in lettere, non caratteri cuneiformi o geroglifici, che sono sistemi di scrittura complessi. E sì, bisogna studiare anni per imparare a memoria tutti i caratteri o simboli. C'è bisogno di memorizzare in quel tipo di scrittura circa 600 tipi di caratteri diversi. Ma con un sistema fatto da 22 caratteri e lettere, semplici segni, possono imparare anche dei bambini. Sì, bambini piccoli possono già impararli. Ultimamente sono stato a Singapore e ho saputo che lì i bambini devono sapere scrivere prima di andare all'asilo. Perciò devono provvedere i genitori che loro imparino. All'asilo sanno già scrivere. Ma anche da noi ci sono bambini che imparano precocemente dai parenti stretti. Se si spiega a loro come si fa, sono benissimo in grado di imparare a scrivere piccole lettere ai genitori oppure ai nonni. E non perché sono dei geni, ma è il sistema con i caratteri a lettere che è facilmente da apprendere. Tornando a noi, in quel momento storico apparve quindi la scrittura con caratteri a lettere, cioè un programma. La parola di Dio per l'intera umanità. E non solo per le persone colte. Finalmente chiunque era in grado di poter apprendere. Dio, come scritto al capitolo 20 dell'Esodo, diede quindi due tavole contenente i dieci comandamenti. E guardando meglio, ho notato che nei dieci comandamenti vi sono contenute tutte e 22 le lettere ebraiche. Dunque Mosè ha poi, durante i quarant'anni nel deserto, completato l'intera opera. Dal primo al quinto libro del Pentateuco. I primi cinque libri della Bibbia. E infine li ha consegnati ad Israele. Israele è diventato il popolo del libro. Ricevettero dunque questo libro da Dio, la prima sezione dell'Antico Testamento, la Torah. Ma Mosè lasciò loro anche il libro di Giobbe, un libro che tratta di un uomo che viveva nell'odierno territorio della Giordania, nel paese di Uz, al tempo dopo il diluvio, quindi evidentemente prima di Abramo. Abramo non appare nel libro di Giobbe e così neanche Isacco e Giacobbe, i patriarchi di Israele. Ma di lui è detto che era un uomo timorato di Dio nel paese di Uz, che nella Bibbia è detto anche terra di Edom. Giobbe era di là e conobbe Dio. Mosè ha scritto la sua storia e l'ha fatto in ebraico, tramandandolo poi al popolo di Israele. Questo è affermato dalla tradizione ebraica. Più avanti torneremo nuovamente sulla tradizione ebraica. Inoltre Mosè scrisse anche il Salmo 90. Al tempo dell'Esodo, gli israeliti non avevano ancora il libro dei Salmi, ma ricevettero il primo Salmo, il Salmo 90, come unico Salmo. Il Salmo comincia così. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Nel Salmo si descrive il periodo di Israele nel deserto e di quanto sfuggente e breve sia la vita. Difatti, la generazione che uscì dall'Egitto, a causa della loro infedeltà, dovette morire in quei 40 anni di pellegrinaggio nel deserto. E solo la generazione successiva potè entrare nella terra promessa. Leggiamo quindi dal versetto 9. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. Immaginate un soffio, così breve. I giorni nostri arrivano a 70 anni, o per i più forti, 80 anni. E quello che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne voliamo via. Poi leggiamo ancora nel versetto 12. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio. Questo ricevette come insegnamento israele. E l'autorità di Mosè era confermato anche dai numerosi segni e miracoli che fece. Come le piaghe in Egitto, che emissero in crisi l'intero paese. Oppure i segni che fece davanti al faraone. La mano che diventava lebrosa e poi si sanava. Oppure il bastone che si trasformò in serpente e poi ritornò nuovamente bastone. E poi tutti quei segni e miracoli prodotti sul monte Sinai. I terremoti, il monte che fumava e bruciava e si sentiva una voce dalla nuvola. La voce di Dio che gli comunicava i dieci comandamenti. Tutto Israele poteva ascoltarla. Circa quattro milioni di persone che sentirono con le loro orecchie la voce di Dio rivolta a Mosè. E fu solo Mosè che da profeta di Dio potè salire sul monte per prendere le tavole. Lui, profeta di Dio, confermato attraverso tutti questi prodigi in modo da non lasciare alcun dubbio sulla sua autorità. Di conseguenza, i suoi libri non potevano essere concepiti come scritti da uomo, ma furono concepiti come ispirati da Dio. Alla fine della sua vita, Mosè scrisse otto discorsi di congedo. Ma siccome fu infedele verso Dio nella vicenda del bastone e la roccia, la roccia che colpì invece di parlarle, Dio gli disse che non poteva entrare nella terra promessa, ma che l'avrebbe potuto solamente vedere. E lui la vide poi dal monte Nebo. Poi morì e fu seppellito da Dio e il suo successore diventò Giosuè. Giosuè ricevette il compito di far entrare Israele nella terra promessa. Ed è interessante da notare che il nome Giosuè in ebraico si pronuncia Hiyoshua e abbreviato quel nome è Yeshua, che è il nome ebraico per Gesù. La traduzione antica dei Septuaginta, cioè dei settanta, riporta il libro di Giosuè con il nome Gesù. Gesù portò il popolo nella grazia della terra promessa. Mosè che raffigura la legge potè solo vederla, la potè solamente indicare. Da questo capiamo già che la legge con i suoi comandamenti non può salvarci, non può farci entrare nella terra promessa. Tutt'altro ci fa capire che non siamo affatto in grado di compiacere Dio. Siamo peccatori e abbiamo bisogno di un salvatore, qualcuno che ci conduca in grazia nella terra promessa. E così abbiamo visto che con Giosuè abbiamo quindi il successore di Mosè. Giosuè, che è un indizio di Gesù Cristo, il salvatore. Ancora molto importante è da dire su quello che troviamo scritto nel Deuteronomio al capitolo 34, versetto 9. Qui leggiamo. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti li obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia. Per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nel paese di Egitto contro il faraone, contro i suoi ministri e contro tutto il suo paese. E per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Punto. Gli otto discorsi conclusivi che tenne Mosè prima di morire nelle vicinanze del Monte Nebo, territorio di Moab, l'odierna Giordania, di fronte a Gerico, ma al di qua del fiume Giordano. Dicevo quindi questi otto discorsi conclusivi fecero nascere il quinto libro di Mosè, cioè il Deuteronomio. Con quel libro si chiude un capitolo. Mosè quindi morì, ma prima inserì come suo successore Giosuè, in modo che potesse essere accettato come capo del popolo. Giosuè quindi, cioè Joshua, ovvero Yeshua, condusse il popolo nella terra promessa e come prima tappa vi fu la conquista di Gerico. Questo lo troviamo scritto nel libro di Giosuè al capitolo 6. In questa immagine potete vedere la parte bassa del muro di Gerico, del muro di Cinta di Gerico, che crollò verso l'esterno. E questo muro crollò 40 anni dopo l'esodo dall'Egitto, nel 1566 a.C. Queste sono le rovine di quel tempo. Il libro successivo al Deuteronomio l'ha scritto Giosuè. Per questo era molto chiaro per gli israeliti che il suo libro fosse la continua del Pentateuco, del libro di Giobbe e del Salmo 90. Questi libri erano la loro Bibbia di allora. Non c'era bisogno di un concilio che si unisse e dicesse quali sono i libri canonici da riconoscere. Egli era assolutamente chiaro al popolo. La figura di Giosuè era stata confermata da Mosè, che a sua volta era straconfermato dai suoi segni e i prodigi e dagli interventi di Dio durante i quarant'anni nel deserto. Dopo Giosuè arrivò il tempo dei giudici. Un periodo durato quattrocentocinquant'anni. Se si contano, gli anni partendo dal primo giudice fino a Samuele si arriva esattamente a quattrocentocinquant'anni. E questo lo menziona l'Apostolo Paolo negli Atti degli Apostoli al capitolo 13. Lì disse, per quattrocentocinquant'anni diede loro dei giudici fino a Samuele. Al tempo dei giudici, più precisamente al tempo di Deborah, venne conquistata la città di Hazor. E qui potete vedere il palazzo di Jabin, re di Hazor, al tempo del giudice Deborah. Il racconto lo trovate in giudici al capitolo 4. Perciò fu quindi il profeta Samuele a scrivere il libro dei giudici. Ma non scrisse solo questo libro. Scrisse anche il libro di Ruth, che tratta di una storia di quel tempo. Come mai non ha inserito la sua storia all'interno del libro dei giudici? Perché quei due libri dovevano essere e rimanere distinti. Difatti il libro dei giudici ci mostra il triste decadimento in sette atti da parte del popolo di Israele. Il libro di Ruth invece ci fa vedere qualcosa che è completamente all'opposto. Una donna idolatra che proveniva dalle terre di Moab riconosce il vero Dio e mette da parte i suoi idoli per seguire il Dio di Israele, proprio nel periodo in cui Israele stava decadendo. E gli israeliti, che fin dal principio avevano da sempre conosciuto il vero Dio, il libro dei giudici ci dice che per sette volte decadono. Anche oggi purtroppo spesso accade che molti che da tempo conoscono la parola di Dio diventano quasi apatici nei confronti della Bibbia e non si sorprendono più neanche quando scoprono nelle scritture qualcosa di nuovo. D'altra parte invece chi non ha mai sentito parlare del vero Dio si entusiasma a scoprire la parola. Sì, proprio come Ruth rispetto al popolo di Israele al tempo dei giudici. Grazie. 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 Grazie.